Divisa guanti, rastrelli e attrezzi di lavoro, un pizzico di buona volontà e non poco entusiasmo, comincia così l'avventura per i migranti e ospiti in città dall'IPAB Casa Santa dell'Annunziata come volontari del Verde Pubblico e del Decoro Urbano. Stamane per la prima volta sarà attuato il protocollo di intesa siglato a novembre 2015 dal Comune e dalla Casa Santa che prevede lavori socialmente utili per i profughi senza retribuzione. Un impegno esclusivamente volontario che mira a distruggere l'ozio e la passività. I 22 migranti, tutti le 18 e 22 anni dopo aver seguito un corso di formazione, sono stati divisi per squadre. Grazie alla Convenzione si occuperanno di sistemazione e pulizia del Verde Pubblico, rifacimento della segnaletica stradale, sistemazione della rete fognaria e vari interventi di pubblica utilità. Il Comune di Sulmona mette a disposizione strumenti e attrezzature. La Casa Santa garantisce assicurazione e formazione. A portare saluto dell'amministrazione comunale questa mattina il Sindaco Anna Maria Casini e il Vice Sindaco e Assessore Sociale Mariella Iommi. Entrambe hanno rimarcato l'accelerità con la quale il progetto si è sbloccato dopo mesi di stand-by. I primi interventi hanno interessato la zona della villa comunale, in questi giorni soggetta non solo al volontariato dei migranti, ma anche al laborioso lavoro dei tecnici del Comune e del Coggesa che si stanno occupando della pulizia delle due peschiere. Degna di nota la forza di volontà con la quale i profughi si stanno adoperando per il decoro del capologo Peligno. Una maggiore attenzione che dovrebbero avere anche i cittadini alla luce degli ultimi episodi di inciviltà e delle polemiche che oggi hanno invasso i social.